Allora, questa è la chiesa di San Giacomo e Cristoforo, in Bolgheri. Devi sapere che la facciata a capanna, in concio di piedra, squadrati, e la piccola porta murata sul lato sinistro, sono di origine medievale. Perché mi spingi? No, niente così, niente. Poi c'è l'originalità della struttura architettonica, contrasta con lo stile finto e medievale degli incerni. Un ampio arco ribassato... La facciata a capanna in concio... Se è un buffone, poi mi dice a me... Andiamo a vedere la chiesa di San Giacomo. Andiamo. Giacomo che Giacomo, non sai niente.